In una galassia lontana ma non troppo, cioè lontana nel senso che comunque non è vicina e per arrivarci diresti che è lontana perché ci metti tanto tempo ad arrivare, fluttuò un piccolo pianeta chiamato Venove. Tre argonauti stanno venerando un enorme colon sul pianeta Venove. Venerare è salutare. Stop! Ragazzi c'è una merda nell'inquadratura, qualcuno mi spiega per favore com'è finita una merda nella mia inquadratura? Venerare è militare. Venerare è volare. Ed ecco la morale che ora io vi dico. Nella vita è bello avere un colon per amico. Nella vita è un colon per amico.